Mirko Porra, cantautore Tierra D'Enna, con origini marchigiane. Ha scritto più di 150 brani, pensate. Ad ottobre è uscito il suo ultimo lavoro dell'EP Dopotutto e stasera lo eseguerà in versione acustica. Il genere è il pop rock cantautare, cantautorale, ecco. Mirko, Mirko, buonasera, benvenuto insieme per l'Emilia. Eccolo qua, accompagnato però, va? Tommy Gardelli. Ah, già l'è con lui. Lo ricamo? Tommy Gardelli. Tommy Gardelli, facciamo un applauso perché se ti parla di un esistito, voglio aggiungere qualcosa, quello che naturalmente ho letto della tua scheda. Niente, presentiamo questo album. È un EP in realtà, è uscito ad ottobre, il 20 di ottobre che stiamo promuovendo adesso. Adesso sto lavorando ad un album di un 10 brani che uscirà prossimamente. Mi raccomando, comprateci di stasera, e le nostre artistiche vanno veramente a fin di bene per questa grande causa. Insieme per l'Emilia, Mirko Borrat. E a volte immobile, presa dei mali e te perché? Questa ragazza non si accontenta di sesso facile è sempre piena di sentimenti anche se poi non basta mai questa ragazza ho già incontrato un uomo grande e pensa sempre di essere la ragazza più importante e questa ragazza non si accontenta delle parole diventa fragile e poi piange perché tutto fa rumore ed ora sei di nuovo piena di guai con quella testa dura per riportare il tuo cuore fino a soffocarlo senza chiedergli mai se questa volta questa volta è il landestino amore e l'amore non ci cambia niente rimani blocchata in mezzo alla tua scia rimani lontana dalla mia essenza che rimani lontana ad andare via questo brano lo voglio dedicare a una mia amica che adesso purtroppo non c'è più parla di cancro molte persone si ritrovano in questa canzone purtroppo però è una canzone che sinceramente ho voluto creare perché è un ricordo di una grandissima amicizia questa canzone è dedicata a Marinella di una grandissima amica 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 Grazie.